Una stanza quasi vuota, si stringe attorno a un corpo infagottato, in tensione, che sembra proiettato fuori dalla tela o pronto ad esserne risucchiato. Un fascio di luce lo investe e misteriosamente il corpo deflagra, senza boati, senza sangue, perfettamente scomposto. Un corpo di donna si smembra nella luce fredda di uno spazio senza colori e la sua umanità, fragile e tormentata, emerge dallo scrigno geloso di ciascuno scatto. Dolorosamente deciso il compromesso, questo cybercorpo ha sacrificato carne e sangue a un desiderio spietato di cambiamento. Come in un puzzle, tutti i frammenti sembrano pronti a tornare al proprio posto, a ricostruire l'intero, a ricomporre l'immagine perfetta di fan fatal che il mondo richiede. C'è spazio per il gioco, per l'azzardo. Non esistono limiti laddove la consapevolezza è messa al bando. Mani tese, dagli artigli leggeri, atteggiano il volto ad una sensualità senza anima. Resta una solitudine crudele che scivola trasparente sulla pelle tesa e si adagia sulle labbra mollemente rapaci, labbra rossa e tumide senza sorriso, stirate sotto lo sguardo di occhi distratti che si appiccicano al vuoto.